C'è amiche, c'è amici, quali sono i tre vampiri emozionali da evitare? Sono il narcisista, perché le persone narcisiste sono centrate tutte su loro stesse e se per caso tu per disgrazia ti coinvolgi con un narcisista, ti verranno succhiate tutte le energie che hai a disposizione perché il narcisista funziona in questo modo, nel momento in cui tu ti innamori di un narcisista e devi mettere in atto subito dei meccanismi difensivi prima di innamorarti, prima che sia troppo tardi perché altrimenti diventa difficile, come dire, intervenire su un dente quando è l'ascesso, non è più possibile dovevi intervenire prima, allora prima era possibile e allora perché ti succhia tutte le energie e ti metti, cioè perdi praticamente il controllo della situazione, perdi il controllo della capacità di fare le cose che fondamentalmente vorresti fare, diventi, come dire, hai il servizio del narcisista che ti usa e poi ti sputa, quindi evitare assolutamente il narcisista il secondo vampiro emozionale da evitare è la vittima, quella che fa leva sui sensi di colpa quella che se tu non ci sei si ammazza e che si ammazzasse pure, siamo in 7 miliardi sulla faccia della terra, più o meno, non è che cambia molto la situazione per cui la vittima devi evitare, diciamo, di assecondarla se ti dice se mi lasci mi ammazzo, dimmi a che ora, così vado da un'altra parte e non ne parliamo più va assolutamente evitata perché è un vampiro emozionale che ti succhia pure l'anima e il terzo vampiro emozionale che va evitato a tutti i costi, come la peste, è il controllore quello che ti vuole condizionare, quello che ti metterebbe un microchip sotto cutaneo per sapere sempre dove sei questo è un altro che va completamente e tassativamente emozionato eliminato e evitato perché ti rovina la vita quindi anche qua bisogna, nel momento in cui capisci che uno appartiene a questa categoria mettere subito l'antidoto dare subito forti emozioni alla tua parte emotiva dare subito della pappa emotiva in fare in modo che si sganci immediatamente altrimenti entri in un vortice per cui non fai più niente se non dici a questa persona se non rendi conto a questa persona ci sono tanti che entrano in questa situazione non sono più in grado di fare niente se non ricevono istruzioni e se non chiedono bene, per questo video è tutto se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta e in più se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici ciao ciao